Fasso rispetto e poi, non parlarmi dei tuoi live fuori, con tre paganti, tre omaggi e tre buttafuori Non mi illudi, chiudi, sto booking, non ci lucri, con date scroccate agli organizzatori Fatti il video su YouTube, ma è una pantomima, hai 3.000 views col video in anteprima Amici di Urban Week, io sono Charlie P, Charlie P is in the building Questo è Master of Ceremonies, lo spazio di Urban Week dedicato ai hip-hop e R&B Oggi con me c'è Antonio Noema, ciao Antonio, come stai? Tutto bene, tu come stai? Non c'è male, grazie, grazie di essere venuto intanto Non potevo mancare Assolutamente Senti, cos'è che stai ascoltando ultimamente? Ma per la maggior parte è rap americano, come sempre, il disco di Bill, il disco Rundle Jewels di LP Sostanzialmente, di norma, le influenze sono sempre quelle Con i dischi nuovi di queste pietre miliari dell'hip-hop d'oltreoceano Allora io direi, di una pietra miliare invece etnea Ci andiamo a vedere il video di Noema, Rap Guerrilla, qui a Urban Week Noema, man, resta in piedi dalle casse Con lo studio, è il tuo futuro in tasca Io muoio chiuso in studio, come a dirti bastard Scimmi, scimmia, scimmio, scimmie Le mie scimmiano la scimmia, fumano il calumè Con la grinta di chi spinge anche senza un cachet Con la spinta di chi vince anche senza il jet set Stavite un flashback, God bless the death Realizzo un sogno se sono in fase rem Riscrivo la mia storia fra i mais E salgo sulla DeLorean per fare un crash test Ora è l'ora di finirla, questa è la peria If you wanna be a monkey, be a gorilla Vai Ora è l'ora di finirla, questa è la peria If you wanna be a monkey, be a gorilla Vai E tu che parli in fondo, sogni un mondo giusto qua Essere poveri è diventato un lusso Fra i mezzi uomini ognuno è un mezzo busto Pazzo, Dio m'ha fatto col fango di Woodstock È una messa in scena la gara che è più patetico È la stessa pena la piaga del palcoscenico E se nella scena non paga più il merito Ti fa il sangue acido, indovena di lisergico Tu fai il duro, i miei fan stanno a fanculo Non serve a un cazzo, viagra scaduto E questa era Rap Guerrilla Antonio, dove l'hai tirato il video? Il video è stato girato allo Squibb Che è una delle piazze storiche del freestyle catanese E non solo, poi ci sono altri spezzoni di live Che io ho fatto sempre a Catania e provincia È stato girato da Amon Broad Che è uno dei migliori videomaker Che abbiamo l'onore di avere con noi Benissimo, allora io ti ringrazio Grazie per essere stato con noi L'appuntamento è per la prossima puntata di Master of Ceremonist Charlie P Was in the Building Ciao